Salve ragazzi e benvenuti a questo nuovo video velocissimo Mi trovo in una riserva naturale che si trova vicino Bristol Ebbene si ragazzi, questa è la nuova frontiera dei miei video su Youtube Mi trovo in Inghilterra Sono arrivato ieri sera, è proprio un posto sperduto dal mondo E' proprio nella piena campagna londinese Lavorerò in questo hotel E mi trovo in una riserva naturale Ora da qui si può vedere poco però Aspettatevi dei bellissimi video in questa riserva perché Perché è una cosa spettacolare Sono lontanissimo dalla civiltà C'è solo internet, qui non si prende neanche il telefono Non si prende neanche il telefono Quindi sì, ci sono anche problemi di comunicazione Se non peraltro però internet funziona meglio che in Italia Quindi va più che bene E niente, da qui si vede poco Questa è la struttura dello staff di chi lavora Quindi questo è un Quindi questo è un, diciamo Dove stanno tutte le persone dell'albergo che lavorano E questa è la mia stanza E' confortevole, è bellissima Cioè non bellissima però è confortevole Ho tutto quello che mi serve C'è anche il lavandino E niente ragazzi Questo era giusto un video per farvi vedere che Sono vivo e sono arrivato a Londra Quindi Aspettate, a Londra Non è Londra Vicino Bristol, anzi più che altro vicino Exeter La città li scrive Exeter Se vi interessa vedere dove mi trovo Niente, era un video per farvi vedere dove sono arrivato Dove sono Perché era da un po' che non pubblicavo video attuali E niente ragazzi Per ora è tutto E ci vediamo ad un prossimo video Che è fatto proprio veloce L'ho fatto L'ho fatto con l'iPod L'ho fatto questo video Aspettatevi di video fatti meglio Non vi preoccupate Ci sono tante cose da vedere Ed è bellissimo qui Ciao ragazzi Alla prossima